La signora della pittura barlettana Maria Picardi Koliak compie 94 anni, ne aveva solo 17 quando affrontò la prima mostra e da allora non ha più smesso di dipingere. Una vita consacrata all'arte, come testimonia la sua casa trasformata in una pinacoteca ricca di tesori. Allieva del grande maestro Vincenzo De Stefano, Maria Picardi Koliak ha esposto i suoi lavori nelle principali capitali europee, affrescato chiese ed edifici pubblici ottenendo premi e riconoscimenti di livello internazionale e lei stessa a spiegare cosa muove ancora oggi la sua grande creatività. Il mio genere di pittura è quello dell'amore, io cerco di esprimere nel quadro o nella figura o nella mia eternità o nel fiore o nel paesaggio l'amore che Dio ha voluto dare all'umanità attraverso la bellezza del suo creato e cerco di riportarlo umilmente tutto quello che posso sentire e posso dare, cerco di darlo con tanta serenità. Il periodo del lockdown vissuto durante la pandemia è stato fonte di paura ma anche di ispirazione. Nei quadri di Maria Picardi Koliak si coglie il bisogno di pace e tranquillità che solo la bellezza della natura può soddisfare. Infatti a Pasqua ho voluto mandare il messaggio della Puglia a tutto il mondo attraverso gli alberi di ulivo. Ho realizzato delle opere dei nostri ulivi secolari e le ho inviate con la dicitura, con la didascalia di tanta pace al mondo sotto gli alberi degli ulivi di Puglia. 94 anni e non sentirli, Maria Picardi Koliak continua a dipingere con lo stesso immutato entusiasmo con cui da ragazza componiva mosaici con le bucce d'arancia, l'ultimo rinnovato interesse per i paesaggi di mare della sua Puglia. Sto realizzando una serie di opere di mare che mi ricollegano alle Tremiti, al Gargano, al Salento, insomma praticamente è sempre la Puglia che viene elogiata e portata avanti nelle mie opere. Orgogliosa delle sue origini, Maria Picardi Koliak ha ottenuto dalla regione il riconoscimento di ambasciatrice delle bellezze di Puglia nel mondo. La famiglia Picardi è napoletana, ma siamo tutti meridionali. Io sono nata a Barletta e ho assimilato, ho unito alla spezieratezza, all'allegria del popolo napoletano, la dolcezza, l'afflanto d'amore della nostra terra e quindi il mio è un connubio. Poi io sono italiana, quindi o la Lombardia o la Puglia è la stessa cosa. Noi elogiamo l'Italia.